buongiorno è sabato mattina e finalmente ho un pochino di tempo per registrare qualche video, sono state settimane tremende, non sono riuscito né a registrare né a caricare spero che ci sia la luce naturale che si vedono meglio tutti i prodotti che ci interessano ora sposterò un pochino la gamma il computer più che altro, vediamo comunque siccome ho anche una casa che urla proprio grida vendetta e devo mettere a posto inizio dal video, si butto perché sto messo così eccolo qua, quindi ho svuotato il cassetto, devo trovare un posto dove mettere queste cose durante il mese dunque, video ti butto di luglio anche se siamo al 7 luglio però ormai il cassetto era pieno quindi diciamo che ci sono confluiti i prodotti finiti a luglio inizio con il kit di campioncini fior di salina, forse è meglio se mi sposto io un pochino sì, ecco fior di salina che c'è un po' di dolce naturale che mi era stato regalato con il pacco dell'erbolario non vi faccio una recensione a parte sui campioncini perché non mi sembra onesto diciamo, perché lo usi una volta però vi posso dire le mie impressioni allora, innanzitutto su questi campioncini qui avevamo allora, la crema per il corpo molto leggera, molto buona mi è piaciuta per quel che era poi, devo dire che il campioncino da 8 ml cioè, ha reso bene stessa cosa per il bagno schiuma leggero profumato e comunque sia un campioncino abbastato per farmi la doccia lo scrub già vi ho fatto una recensione che vi metto qui sotto il campioncino è un po' piccolino devo dire però sono riuscito comunque a farci la parte superiore del corpo e il profumo che mi è piaciuto moltissimo tanto vero che credo che andrò a prenderlo quindi positiva sempre di campioncini dell'erbolario che non ho trovato in quel kit ma negli altri prodotti la maschera a tripulazione che onestamente non mi ricordo perché l'ho usata cioè troppo poco ecco perché però l'ho finita cioè l'ho finita l'ho usata invece il prodotto mi è piaciuto tantissimo e questo campioncino l'erbolario per l'erbolario vale un acquisto perché lo andrò a comprare questo contorno occhi con centella asiatica proteine vegetale e ginseng rinfrescante e tonificante mi è durato un paio di giorni è un gel molto fresco soprattutto la sera quando lo mettevo sentivo proprio che mi distendeva il contorno occhi e oddio risultati platanti no però è piacevole da utilizzare e secondo me fa anche effetto visto che c'è la centella asiatica poi in realtà un altro campioncino che devo andare a prendere allora ne avevo altri due uno è la crema adodorante mehares molto buona come profumazione però è una profumazione molto invernale comunque l'ho provata e funziona io poi sono depilato sotto le ascelle come penso abbiate capito visto che ho fatto anche di video sulla depilazione quindi una crema così riesco ad utilizzarla bene e poi il siero fitofiller risposta siero di precisione se non sbaglio sì che ho utilizzato stamattina oltretutto ed è un buon prodotto secondo me un buon siero molto fresco molto leggero dunque poi veniamo ai prodotti veri e propri allora vi ripropongo la lozione corpo di lavera questa alla lavanda anche se ho fatto un video apposito che lascio qui sotto questa la ripropongo perché è quella che mi è piaciuta di più mentre le altre le ho già buttate ce le ho già sparse in giro sia per la profumazione che per la consistenza soprattutto cioè quella che è meno pesante per la mia pelle anche le altre mi sono piaciute però facevo più fatica a farle asciugare sul corpo oltretutto io utilizzando le creme e le lozioni spesso come gel per i capelli perché non mi piace sentirmi i capelli sporchi questa ha avuto anche per quell'utilizzo specifico che ne faccio io un risultato top quindi mi è piaciuta tanto la ricomprerò sicuramente non adesso perché devo finire un po' di roba poi ho finito una confezione di shampoo acqua di cocco e lave vera che è uno dei miei shampoo preferiti di ultra dolci di ganier perché adesso il mio preferito è diventato quello del rituale di argan di cui vi ho fatto la prova come prodotto nuovo il video prodotto novità ve lo lascio pure questo qui sotto così riempio l'info box dai poi ho finito allora le creme e la vera le ho finite tutte e due questa è quella da notte e sono le mie preferite prima o poi vi farò un video dedicato per farvele vedere meglio e ho anche la confezione che io conservo perché magari vi metto un attimo l'inci e se volete fare il fermo immagine ve lo vedete poi magari facciamo una recensione questo lo buttiamo nella carta 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 dove l'inci lo vediamo meglio insieme e anche ah no anche quella giorno si le avevo conservate tutte e due le confezioni cambia poco sono le mie preferite per ora sono quelle migliori le ho proprio prosciugate anche la profumazione è buona stranamente come già vi ho detto mi trovo meglio con quella notte che con quella giorno cioè se ne devo comprare una sola o me la devo portare dietro in viaggio preferisco quella notte si asciuga meglio sul mio viso non so perché è meno oleosa ed è più è più consistente eppure mi fa sento la pelle più più leggera però sono tutte e due ottime questa è quella la scatola di quella giorno sono tutte e due al Q10 con l'inci io devo dire che con queste creme nel tempo ho visto la differenza infatti vi farò un video più avanti quando avrò più tempo e più soldi che magari da ecco verde le prendo tutte quelle con cui mi sono trovato bene perché nel giro di sei mesi ho visto la pelle cambiare comunque cioè non è che ti fa un effetto pazzesco però le rughette diminuiscono poi ho finito lo shampoo la vera questo idratante che non è il mio preferito di la vera ma sono sempre ottimi ottimi da ricomprare dunque ho finito questa crema al Q10 cd al verde che avevo preso in Germania con tanto di convenzione di cui l'inci è qui ecco che purtroppo quindi se gli volete dare un'occhiata allora molto nutriente quindi un pochino non dico pesante però insomma un po' nutriente l'ho presa in Germania quindi non è che ho l'opportunità di prenderla sempre però è buona insomma soprattutto costa pochissimo questi prodotti costano pochissimo sempre in tema di prodotti che costano pochissimo ho finito una crema notte questa la rosa della Sienne preso da Lidl allora queste creme non sono le mie preferite però sulla mia pelle funzionano soprattutto quella melograno notte si asciuga bene ma soprattutto perché costando pochissimo io ho fatto il piano infatti le vedrete in altri video ti butto qualcuna che mi è avanzata perché qualche mese fa Lidl le aveva messo tutte in offerta a 1,99 che si vede dovevano svuotare lo scaffale non lo so e quindi io le ho prese tantissime perché perché comunque sono molto comode per la piscina per la palestra sono comunque eco bio e spesso me le porto come crema unica in giro perché vanno bene anche per il corpo ovviamente e per le mani quindi anche questa l'ho proprio finita queste hanno una buona profumazione alcuni ho visto delle recensioni in giro alcune dicono che sono creme un po' vuotine sarà però comunque per questo prezzo perché no prenderle poi ho finito finalmente questo scrub idratante questo gommaggio idratante di questa marca assurda schussler che non prenderò mai più allora questo qui a parte che era molto leggero troppo leggero era con i noccioli di albicocca era costato anche un po' e sono 75 ml e mi è durato tantissimo non perché il prodotto duri tanto ma perché a me quando i prodotti durano tanto è perché non mi sono piaciuti essenzialmente vabbè a parte il fatto che era troppo leggero per il mio tipo di pelle che sono abituato praticamente alla smerigliatrice ma l'odore è pessimo quindi ogni volta che lo utilizzavo poi mi lasciava più che idratare mi lasciava la pelle sporca quindi questo per le pelli miste sicuramente no secondo me non è neanche un gran prodotto in generale via poi ho finito i campioncini evviva già iniziano a messaggiarmi i campioncini Q10 della Nivea giorno e notte uno di quelli giorni l'avrò perso della crema Q10 plus di Nivea vediamo se allora anche questi l'ho utilizzati abbastanza mi sono piaciuti però si tratta pur sempre di campioncini quindi insomma le ho proprio odore buonissimo perché profumazione ha detto non odore perché io adoro la Nivea l'odore della Nivea e mi sono trovato molto bene tant'è vero che credo che prenderò le full size soprattutto ho visto che sono uscite quelle alla vitamina C però più verso settembre ottobre perché sono soprattutto questa notte è bella corposa per la piscina sono andate benissimo perché ce le avevo lì piccolissime dopo mi ridratavano la pelle perfettamente e comunque non mi sentivo neanche troppo appesantita la pelle che vi ricordo la mia pelle è mista barra grassa soprattutto in alcune zone quindi le proveremo ho finito vabbè un dentifricio senso da in gun protection ma continuo a preferire il dentifricio è uguale ho finito anche il pro smalto ma continuo a preferire ripeto il i bio repair e l'elmex è quasi finito ma ve lo metto qua così questa settimana in piscina lo finisco e via il bagno doccia energizzante al mango di broche di broche non so come si dica profumazione paradisiaca buono mi piacciono questi bagno doccia puliscono bene sono molto pratici da utilizzare quindi e vai ho finito lo shampoo il shampoo lo shampoo mela verde aloe di bottega verde che era comunque un prodotto novità per capelli normali l'ho preso qualche mese fa l'ho messo in piscina e via allora non vale la pena farne una recensione a parte perché a me questo shampoo non è piaciuto particolarmente innanzitutto idratante leggerezza lunga durata però mi lasciava comunque i capelli un po' pesantiti almeno i miei a me piace sentirmi puliti e non me li lasciava neanche troppo idratati quindi l'odore è buono però sa proprio di mila verde vi ricordate uno shampoo chi è vecchio come me si ricorderà sicuramente uno shampoo degli anni 80 che era proprio la mela verde che era qualcosa di chimico e di paradisiaco mi sta piacendo di più questo che è il suo sostituto nella bustina di plastica che tranquilli mi dura a me un anno questa bustina perché uso sempre quella per il nuoto questo qui ha il cashmere che radina e cashmere scusate che ha sempre un buon odore però lo sto utilizzando adesso ancora un attimo e li idrata veramente tanto poi ho finito vabbè la crema questa di bottega verde che ho di lana confezione è quasi finita ma di queste vi faccio una recensione a parte così come vi farò anche una recensione a parte del detergente questo qui l'olio scrub è quasi finito butto la confezione e poi tanto vi ho fatto già il video e sto finendo la maschera di bottega verde ma faccio una recensione a parte quindi l'ultimo prodotto è questa pomata di aboca artiglio del diavolo io ho utilizzato sia questa che quella dell'erboristeria magentina questa è molto buona per chi magari ha bisogno di questi prodotti purtroppo l'inci l'ho l'ho eliminato da qua credo di sì perché forse era nella parte sotto della confezione no eccolo qua allora vi faccio vedere l'inci perché chi utilizza questi prodotti io vi dico che il top soprattutto per i dolori articolari per problemi se uno prende una storta l'artiglio del diavolo e l'arnica sono il top ma soprattutto l'artiglio del diavolo dopo qualche giorno veramente riassorbe almeno a me riassorbe il dolore un risultato pazzesco quella dell'erboristeria magentina è la mia preferita questa l'ho provata e l'ho presa varie volte è un po' più piccola da 50 ml costa anche un po' di più perché viene sempre sui 11-12 euro ed è grande la metà però mi ha durato tutto l'inverno e devo dire che ovviamente rispetto a quello dell'erboristeria magentina è un cosmetico biologico quindi questa è la differenza tra le due per chi vuole più informazioni magari poi tanto farò un video a parte sui prodotti dell'erboristeria magentina ma se volete informazioni su questo magari scrivetemi e ve lo vi dico qualcosina in più e questi erano prodotti finiti così finalmente era il tiguto di luglio così finalmente posso liberare il cassetto ciao buona giornata e buon sabato grazie a tutti